Baltellina a terra di mele e di uva ma anche di olive, olive la cui raccolta è in corso. Questa però sarà l'ultima a vedere i produttori costretti a spostarsi fuori provincia per la molitura. A breve, io penso nel giro forse di un anno, dovremmo avere un frantoio in provincia di Sondrio e questo dovrebbe un attimino favorire e magari anche sviluppare ulteriormente il comparto. Comparto sì, perché da 30 anni a questa parte le macchie verde-grigio sul versante eretico dalla costiera dei Cecca a Tresivio sono diventate parecchie. La fondazione Foianini ha censito 15.000 piante per un centinaio di ettari ma si stima che i numeri siano ben superiori. Non ci credeva nessuno, sono partiti dei pionieri, la Foianini li ha seguiti nella loro pazzia. A distanza di 30 anni il comparto è cresciuto, l'olivo è diffuso e l'olio è un prodotto ormai che si può trovare facilmente in Valtellina. Ciò che forse ancora diversi valtellinesi non sanno è che l'olio made in Valtellina è un olio di livello. Bisogna sfatare un po' il fatto che siccome la Valtellina non ha mai avuto una tradizione di olio siccome è una regione posizionata molto a nord non è vero che da noi si fanno degli olietti o degli oli scadenti. Si fanno dei grandi oli, magari le rese sono sì un po' più basse, le fatiche sono sì un po' superiori rispetto ad altri areali olivicoli perché noi siamo su terrazzamenti però la qualità dell'olio poi premia i produttori di olive.